Pronto? Pronto? Che amore! Eh buonasera, senti chicca, io dovrei fare una festicciola tra amici miei, so che ho letto l'annuncio, cioè che fate soffoconi, queste cose, roba del genere. Pronto? Sì amore, però non ho capito proprio niente, sono un bel challenge, giusto, lo capito. Ho letto l'annuncio dovevo fare dei soffoconi, bocchini, pompe, roba del genere, siccome c'è una festa che lo fa la festa a un amico mio, quanto viene il prezzo su Peugeot? Il prezzo insomma per fare questa festa che venite voi? Quanto sono più di 10 persone? Eh? Sono 10 persone? No ma sono più di 10 persone, saranno una trentina comunque. Ok, ok. Eh, quanto mi viene sul peggio per pagare tutta questa roba? Ma se fate un bel lavoretto comunque, portatevi pure le catene e roba del genere che ce l'avete. Ho capito, e che vuoi fare io da adesso? Parla bene perché io ovviamente non ce sto a capire in cazzo, già se sei straniera ce capisco una minchia. Parla bene. Te l'ho detto, o che vuoi scopare tutti o... No, 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 per carità scopare tutti, ma è che stiamo... No, è solo questo amico mio che deve scopare. Noi stiamo lì a guardare. Fammo riguardoni, si. Si può fare? Paghiamo comunque, non è? Cioè di dir prezzo non c'è troppo problemi. Sono, guarda, sono più di una trentina. Saremo 25, 26. 25? Sì. Sì. Cioè sta amico mio comunque c'è anche, porta un po' c'è un problema a cercare di vedere, vabbè, se può fare qualcosa. Allora, per quello che mi scopa prendo... Quando? 200. Qua? 200? A mezzo, pensavo un po'... Cioè pensavo di più, ma com'è così che fai, gli sconti? Sì, abbiamo pagato sempre di più io, alla fine, se potrebbe dire, per fare questi testi. Senti, però io c'ho... Però io... Scusa, parla bella di me. Quello che mi scopa mi paga 200 e quel che mi guarda solo mi guardare... Sì. Quanto? Non lo so. Vabbè, vabbè, fanno 100 quelli che ti guardano, tanto, fanno 25, 600 e ci guadagni un botto, cioè... Però c'ho un po'... Però c'ho un problema, c'ho... Sto amico mio... C'ha il catetere, perché c'ha un problema, capito? Quindi... Cioè, a fine non è che può scopa... Capito? Non so se c'è presente che cos'è il catetere. Eh, che fa... Non ti capito. Il catetere. Catetere? Sì. Il catetere, quando si usano le cose per i malati, è una specie di defilo che taccano nella cappella al malato per farlo pisciare. Siccome questo... Eh, va bene. Scusa il mio frasario, però... Così, insomma. Vabbè, poi tu hai esabituato, cappella, cazzo, ce l'ha visto? Capito come funziona? La... La... Non so se... La... Ma... Ma... Insomma... 200 e più c'è tutto... Quei domani si potrebbe fa' sta cosa. Sì. E come faccio a riconoscere? Tu che sei? Colla? Tu come ti chiami? Ce l'avrai con sovrannome? Sì, Corina. Ah, Corina? Sì. Ah, il carino è bello, comunque. pensavo, non so, io pensavo labbra infogate, non so, queste cose del genere, Corinna, Corinna, bionda, Mora? Bionda comunque visto nelle foto. Ok, va bene, allora domani ti do l'indirizzo? Va bene. Ma vieni te con altri ragazzi, cioè, quanti? Amore, io vengo sola, voi hanno altri ragazzi, infatti anche io. Ah va bene, va bene te, tanto non è che devo fare io con te, è questo amico mio che ti fa, sono io che pago la fine, va bene. Va bene, allora Monte Urano. Cosa? Monte Urano, l'indirizzo. Va bene te te, vi mando il messaggio comunque con l'indirizzo, però ci sono anche ora voi. Va bene, va bene, ok, va bene, allora buonanotte. Ok, buonanotte a te. Ciao, ciao.